Shalom, shalom, shalom. Eccoci qui con un'altra lezione delle serie del libro di Apocalisse. Oggi tratteremo il libro di Apocalisse capitolo 13. E prima di iniziare voglio dare tutti i lodi al Padre. Yahawa, Bahashem, Yahawa Shai, Bahashem, Rukah, Kudash. E quello che avete appena sentito è l'antico ebraico, che vuol dire tutti i lodi al Padre Yahawa nel nome di suo figlio Yahawa Shai e nel nome dello Spirito Santo, Rukah, Kudash. E miei doppi onori agli Apostoli e anziani della Great Mewstone GMS per avermi insegnato questa verità che è la pura verità. E miei saluti e pace agli eletti della Casa di Israele che sono sparsi nei quattro lati della terra, che stanno lavorando nella vigna che è la terra in questi ultimi giorni, facendo sì che questa verità possa arrivare dappettuto. E miei saluti e anche coloro che con sincerità stanno cercando questa verità. Miei saluti. E come avete notato, è da un po' che non ho fatto lezioni su questo canale, perché sono stato bloccato per un paio di settimane. E penso che a breve questo canale verrà terminato, perché è la seconda volta e ho ricevuto un messaggio che la terza volta sarà bloccato il canale. E tutto questo, sì, è successo perché stanno censurando la verità, non vogliono che la verità non arrivi a tutti, non vogliono che i figli di Israele si sveglino. Io qui ho un altro canale di supporto, di Bacop, si chiama Yaraya Yasharala. Se per caso non vedete più i miei video o vedete chiuso questo canale, sapete che continuerò a postare insegnamenti, ok? Su questo canale qui, Yaraya Yasharala. Dunque, io, cioè non solo io, noi fratelli della Great Millstone sappiamo e sentiamo che a breve non avremo nemmeno più questa possibilità di fare questi insegnamenti su queste piattaforme, visto che stanno cambiando delle leggi e stanno facendo nuove censure affinché la verità possa essere sempre meno e possa essere proprio cancellata dalla faccia della terra. E questa è la bestia che sta facendo questo. La bestia rappresenta il sistema, ok? Ora iniziamo velocemente. Questo è il libro di Apocalisse, si può anche chiamare libro di rivelazione, capitolo 13. E consiglio a tutti coloro che non hanno visto gli altri capitoli. Abbiamo fatto i capitoli del libro di Apocalisse, mi sa, fino al 12. Per capirne di più ci sono molte informazioni, ho creato una playlist su questo canale che vi fa vedere dove ci sono i libri di Apocalisse, ok? Vi consiglio di guardare tutte per avere ulteriore capienza di cosa si tratta. Perché non andrò a profondo di tante cose che sono già state dette su gli altri insegnamenti. Ora iniziamo a leggere dal capitolo 13, versetto 1. E stavo sulla sabbia del mare e vedi una bestia salire dal mare con sette teste e dieci corna, e sulle sue corna dieci corone, e sulle sue teste il nome di blasfemo. E la bestia che vedi era come un leopardo, i suoi piedi erano i piedi di un orso, e la sua bocca come la bocca di un leone, e il dragone gli diede il suo potere, il suo trono e grande autorità. Prima di tutto, questo è Giovanni, ok? Che vedeva questa visione e dice, stava sulla sabbia del mare, ok? La sabbia del mare rappresenta popolo, nazione. Per darvi il precetto, andiamo a prenderlo dal libro, sempre di Apocalisse, capitolo 17. Ok, capitolo 17 e versetto 15, che dice, Ed egli mi disse, le acque che hai visto dove siede la prostituta sono popoli, moltitudine, nazioni e lingue, ok? Perciò, questo libro, come sapete, qui, è sul libro di Isaia, per capirlo, per capirlo bisogna leggere un po' qui e un po' lì, è la chiave per capire questo libro, e prima di tutto bisogna avere lo spirito della verità, che è lo spirito santo, la rukah kodash, per capirlo, e soprattutto bisogna essere scelti da padre per ricevere questa verità qui. E se leggete qui dal libro di Isaia, capitolo 28 da 9, dice, A chi insegnare la conoscenza, a chi farà parte, a chi farà capire la dottrina, quelli che sono svezzati dal latte e stretti dal seno. Questo porta sempre nel libro di Matteo, che dice, affinché voi non convertitevi come bambini, e perché dobbiamo convertirci come bambini? Dobbiamo disimparare tutte le calunie, tutte le bugie che ci hanno insegnato fin da bambini, e avere una mente aperta per ricevere nuove cose, ecco perché dobbiamo diventare come bambini. E dice, poi che il precetto deve essere su precetto, precetto su precetto, linea su linea, linea su linea, qui un po' e là un po'. Avete capito? Così si impara e si capisce questo libro, lì un po' e qui un po', linea su linea. Ecco perché, per darvi dei precetti, vado sempre a prendere versetti da altri libri o stesso libro, perché la risposta stessa sta dentro questo libro qui. Perciò, quando Giovanni dice che stava sulla sabbia del mare, dice che stava su e vedeva, ok? Stava su e vedeva popoli, nazioni e lingue, e vede una bestia. Questa bestia vuol dire il sistema, ecco qui, la descrizione della bestia. E la bestia che vedi era come un leopardo, i suoi piedi erano come i piedi di un osso, e la sua bocca come la bocca di un leone, e il dragone gli diede il potere e il suo trono e grande autorità. Vi dico prima, la bestia è il sistema, ok? Il sistema, questo leopardo rappresenta Alessandro Magno, ok? I suoi piedi, sappiamo che da Alessandro Magno sono venuti fuori i romani, ok? I suoi piedi erano come i piedi di un osso, questo osso rappresenta la Russia, ok? E la bocca di un leone rappresenta il Regno Unito, il dragone. Questo dragone rappresenta l'antico esercito, l'antico sistema romano, ok? Gli diede il suo potere, il suo trono e grande autorità. Per capirne di più, andiamo a prendere questa visione che ha visto Daniele, nel libro di Daniele, capitolo 7. E ne ho fatto già una serie sul libro di Daniele, del sogno che ha avuto il re Nabucodonnonzo, che ha visto la statua che dà il tempismo dei regni della terra, ok? Fino al ritorno del figlio del padre, Yehawashai, colui che il mondo dall'ignoranza chiama Gesù, ok? E se andiamo al libro di Daniele, perdonatemi, e vediamo che dal versetto 6 qui, anzi dall'inizio leggiamo velocemente. Nel primo anno di Berdasare, re di Babilonia, Daniele fece un sogno e visioni sulla sua testa sul letto, poi scrisse il sogno e raccontò la somma delle cose. Daniele parlò e disse, ho visto nella mia visione di notte, ed ecco i quattro venti del cielo si sono sforzati sul grande mare, ok? E quattro grandi bestie salirono dal mare, queste sono, sempre come vi avevo spiegato, nazioni, lingue, popolo, diversa l'una dall'altra. Le bestie sono i sistemi, i governi, ok? Il potere governante. Il primo era come un leone e aveva ali d'aquila, vedi, finché le sue ali furono strappate e fu sollevate dalla terra e fatte stare sui piedi come un uomo, il cuore di un uomo era stato dato adesso. E vedete, dice che il primo era come un leone, aveva ali d'aquila, e questo sta parlando, non sta parlando altro che il regno dei grandi babilonesi. E per farvi vedere, per farvi vedere, qui su Wikipedia se scrivete l'amasu, ecco qui, l'amasu vi dice, Vedete, dunque, vi dicono l'amasu, sumerico, è un divinità protetico della vita, le diverse cività messe botaniche, Assiri in particolare, qui sta parlando di Babilonia. E loro si... Avete visto? A partire da Ehe, cività sumeri, aiakiri, i babilonesi, che gli Assiri. Sta parlando proprio dei babilonesi. E quello che volevo farvi vedere è questo. Vedete? E questo si trova proprio nel museo di Lovre, che io penso che sia in Francia. E dunque è questo che vedeva Daniele. Ok? Torniamo. E prima era come un leone, aveva ali d'aquila. Ok? Quello rappresenta la figura che abbiamo visto prima, che è l'antica Babilonia. Vede finché i suoi ali furono strappati, ha perso il potere. Ok? Il potere si è trasferito ad... Vediamo in versetto 5 dice, Ed ecco un'altra bestia, una seconda simile a un osso, e si solleva da un lato, e aveva tre costole nella bocca, tra i denti, e gli dissero così, alzati, divora molta carne. Questa seconda bestia rappresenta quelli che hanno preso il potere dagli antichi babilonesi, che è stato Dario. Erano i persi e i merdi, e i medi. Ok? Sono due. Anzi, questa sarà un'altra lezione, se no questa lezione sarà troppo lunga. Dunque, il re Dario ha preso il potere dalla mano di Beltasazà, ok? I re dei Babiloni, e si vede che la storia, nel capitolo 5 di questo libro, loro avevano preso i bicchieri, i piatti, diverse cose dal tempio dei figli di Israele, e bevevano, e loro adoravano i dei dell'oro e l'argento. E hanno visto una scritta sul muro che nessuno poteva interpretare. Hanno dovuto chiamare Daniele. È venuto, e gli ha interpretato, e gli ha detto che il suo regno era la fine del suo regno. E nella stessa sera è venuto il re Dario sotto il comando di Ciro, e hanno preso il regno tranquillamente uccidendo da un Beltasà sul trono, ok? E così l'antica Babilonia ha perso il potere, e il potere è andato in mano ai Medi e ai Persi, ok? I Medi e ai Persi, ok? E queste tre costole che aveva in bocca rappresentano Ciro il primo, il secondo e Dario, ok? Andiamo avanti. Dopo questo, vedi, ed ecco un altro, simile a un leopardo, che aveva su dosso quattro ali di uccello. La bestia aveva anche quattro teste, e le fu dato il dominio. Questo sta parlando del regno di Alessandro Magno. E come sapete, Alessandro Magno aveva aveva dato il suo regno in mano ai suoi quattro comandanti preferiti, ok? Che sono i Cassandra, gli Ussimisius, Tolemia, e Cassandra, gli Ussimisius, Tolemia, e adesso non mi viene o non mi viene i quattro nomi, comunque, è una storia che si conosce bene. Appena mi viene, lo dirò. E quei quattro rappresentano, le quattro teste che vedete sul leopardo, ok? E le fu date il dominio. E da questo regno è venuto il regno dei Romani, ok? Dopo questo ho visto nelle visioni nottune ed ecco un'altra bestia spaventosa e terribile e straordinariamente forte e aveva grandi denti e ferro, divorava e spezzava in pezzi e ne capestava il residuo con i piedi ed era diverso da tutte le bestie che erano prima di esso e aveva dieci corna, ok? E questa bestia sta parlando dei degli antichi Romani erano forti straordinariamente e che erano tatticamente forti avevano avevano strumenti di guerra davvero e come sapete hanno preso dominio su su tante tante parti del mondo come sapete ok? E dopo questo ho visto nella visione nottune ed ecco una quarta bestia spaventosa ok? che abbiamo detto ho considerato le corne ed ecco vi è salito in mezzo a loro un altro piccolo corno davanti al quale c'erano tre dei primi corni strappati dalle radici ed ecco in questo corno erano occhi come gli occhi dell'uomo e una bocca che dice grande cose infatti questi dieci corni che vedete non è altro che il regno che stiamo vivendo adesso diciamo che è una è una è una neo è una neo neo che vuol dire nuovo ok? è un neo antico romano ok? è sempre un regno sotto gli antichi romani sempre il regno sotto i figli degli edamiti ok? degli romani ma è tutto cambiato e questo corno primo che è un piccolo corno che sta dicendo che dice grande cose è America ok? è America perciò io spero di essere riuscito a spiegare qui ci vuole lo spirito per capirne ok? ora torno al libro di Apocalisse e facciamo un riassunto di quello che abbiamo letto ora e stavo sulla sabbia del mare che vuol dire popolo lingue nazioni e vedi una bestia salire dal male con sette teste e dieci corne e sulle sue corne dieci corone e sulle sue teste il nome di bestemmia e la bestia e la bestia che vedi era come anzi andiamo a vedere andiamo a vedere cosa ci dice la parola bestia qui ok? la parola bestia in greco ok? come era scritto è terion terion ok? e vediamo cosa dice bestia bestia salvaggia bestia velenosa vedete metafora un uomo brutale bestiale selvaggio feroce non sta parlando proprio di una bestia e vediamo vediamo se vediamo altro vedete bestia è raffigurato l'anticristo sia la sua persona che il suo regno e potere metaforicamente un uomo brutale bestiale selvaggio feroce ok? vedete dunque non sta parlando proprio di una di una bestia come animale sta parlando proprio di un sistema ok? torniamo dietro ci può bastare così bene e dice la bestia che vedi era come un leopardo avete visto vi ho spiegato nel libro di Daniele leopardo rappresenta il regno di Alessandro Magno i suoi piedi erano come i piedi di un osso ok? questo rappresenta questo osso rappresenta la Russia e la bocca come la bocca di un leone rappresenta Inghilterra come sapete come sapete il regno il regno dei figli di Esau è vasto ok? sono sempre loro che hanno preso tutto tutto il regno dell'Europa e poi andiamo anche a toccare un po' su di là i russi sono sempre un'altra frazione dei figli di Esau ok? e i dragoni li diede i dragoni rappresenta l'antica romana ok? infatti voi se scrivete per esempio per esempio Sier Petra che faccio vedere spesso in tante tante lezioni video questa era la prima abitazione dei figli di Esau ok? Petra e se vedete che non è cambiato nulla ok? non è cambiato nulla questo è Sier questo è Roma questo è Inghilterra questo è America vedete che portano sempre la stessa architettura sono le stesse persone sono le stesse persone ok? e infatti no anzi facciamo così piano piano poi arriveremo lì la bestia che vedi era come e vedi una delle sue teste come se fosse stata ferita morte e la sua ferita perdonatemi un attimo e la sua ferita mortale fu guarita e tutto il mondo si meravigliò della bestia questo non sta parlando altro che il tempo del medievo ok? e così chiamati tempi scuri ok? perché la sua testa è stata ferita perché è salito in potere i figli di Israele ok? a quell'epoca erano conosciuti come i mori e la parola moro viene dalla parola scuro ok? moro vuol dire solamente scuro ok? infatti se andiamo a vedere la parola moro 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 come in etimologia ok? vedete la parola anzi voglio che mi la traduce questa pagina perché non mi la traduce e non lo so perché non mi la traduce dunque vedete dice l'origine della parola moro che è moro è greco la parola paupo o mavro ok? che vuol dire nero ok? scurito ok? è scuro vedete? è quello che vuol dire la parola moro ok? e cosa è successo? loro sono saliti in potere i mori ok? che la storia secolare è toccata modificata vi dicono che erano arabi no i mori erano scuri e abbiamo delle prove diverse prove della storia vera ok? infatti se andiamo a vedere per esempio canso perdonatemi per esempio ho salvato qualcosa qui per esempio prendiamo per esempio vi prendo Tiberios Tiberio Giulio Alessandro ok? e è che la gente non va a vedere bene la storia Tiberio Alessandro era anzi leggiamo chi era Tiberio Giulio Alessandro che è stato un politico generale romano ok? appartenente all'ordine equestre dell'impero romano nato in una ricca famiglia ebrea avete visto era ebreo lui ok? infatti c'erano tanti ebrei in Egitto ecco perché il figlio del figlio del padre Yahawashai dopo la sua nascita doveva quando quando come si chiama scusatemi quando erode voleva assassinarlo è sfuggito in Egitto e ha avuto rifugio in Egitto ok? perché era un popolo scuro negro ok? era un popolo scuro e lì lui poteva nascondersi bene ok? infatti vedete tiberio giudio alessandro nato in una ricca famiglia ebrea era un ebreo ok? abbandonò e trascurò la sua religione dei suoi avi per intraprendere una carriera nell'amministrazione imperiale romana sotto l'imperatore Claudio ok? raggiunse la carica di procura di giudea nel 46 a 48 e successivamente quella di prefetto di Egitto nel 66 a 69 mentre ricopriva questa ultima carica soppresse violentamente una sommosa degli ebrei di Alessandra di Alessandria nel 70 vedete dice ancora che gli ebrei erano in Alessandria Egitto che erano c'era la stabilità degli ebrei molto in Alessandria ricordatevi che Giuseppe stesso era un grande in Egitto ok? nel 70 in occasione dell'assedio di Gerusalemme ricopriva il ruolo di comandante in seconda di Tito infatti quando Tito ha fatto questo comando di andare a distruggere Gerusalemme nel 70 dopo 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 la morte di Cristo ok? dopo la morte di Yahweh Shai direi ok? nel 70 che cosa è successo? il comandante che ha portato a termine questa cosa qui era un ebreo ed è questo Tiberio Giulio Alessandro perciò per farvi capire gli ebrei erano tanti ebrei in mezzo ai 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 romani che avevano posizioni davvero grandi ok? infatti loro non avranno potuto fare questo questo assedio qui era proprio un ebreo ok? che ha guidato questo assedio e questo assedio cosa ha causato? la dispersione dei figli di Israele ok? hanno ammazzato tanti hanno fatto una carneficina lì hanno rubato tutte le cose gli oro che erano nel 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 tempio e i figli di Israele si sono dispersi tanti sono sfuggiti in Europa e molti sono sfuggiti giù in Africa e si trovano oggi all'ovest dell'Africa molto anche se sono spezzi da per tutto perché hanno cominciato a prendere gli schiavi e portare in America in diverse parti del mondo ok? questo ha causato la dispersione dei figli di Israele ok? ora vi faccio vedere un altro ente che poi questo si chiama Diocleziano ok? infatti se guardate le foto cosa fanno? tagliano il naso e la bocca ok? per non farvi vedere che questi erano proprio persone negri ok? hanno tagliato il naso e la bocca e infatti se guardate tutte le foto di questi che erano proprio ebrei c'è sempre qualcosa che non va con le loro foto c'è sempre qualcosa di tagliato e distrutto vediamo chi è Diocleziano Aurelio Valerio Diocleziano nato Diocle ok? è stato un imperatore romano che governò da 20 novembre 284 al primo maggio 305 con nome imperale di Cesare Gaio Aurelio Valerio Diocleziano Agostus Lovio infatti questo era un ebreo ok? per darvi c'è tanto da leggere qui ma non vado anzi leggiamo Di Diocleziano non si conosce con certezza nel luogo nella data di nascita certamente dal mata si sarebbe chiamato Diocleziano nel nome della madre o del presunto quartiere nativo della città di Spalato di Ocle o di Ocle mentre il suo padre sarebbe stato un liberto scribe ok? scribe cosa è un liberto? ora andiamo a vedere cos'è un liberto un liberto è una persona precedentemente schiavizzata che è stata liberata dalla condizione di schiavitù lui è il figlio di un schiavo e chi erano questi schiavi? gli ebrei generalmente tramite mezzi legali storicamente ad esempio sia nella Roma antica che nei Stati Uniti pre-guera civile le persone schiave venivano liberate da manomissione libertà garantita da propri padroni o proprietà emancipata ok? i schiavi erano gli ebrei a quell'epoca lì perché sono stati portati schiavi dappertutto e come sapete ho appena raccontato ok? e vedete Diocle era figlio di schiavi e chi erano iscrive ok? gli ebrei infatti se se guardate anche Alessandro Magno aveva un generale che era un ebreo ok? anzi andiamo a vedere un po' questi sono questi sono gli imperi romani ok? vedete Agostos Tiberios Caligula Claudios Nero Galba Otto Vitellus Vespasiano Titus Domitiano Nerva Trajan se guardate da qui fino a qui erano i figli dei Dometi ma una cosa che la storia non vi dice è che da qui da Hadrian sono i figli di Israele infatti vedete la differenza ma questi erano figli di Israele sparsi in queste terre che tanti assomigliavano anche loro perché magari avevano il padre ebreo e la madre Edomita la madre di diverse nazioni perché i figli di Israele come il libro di Ezra ci dice avevano mescolato loro stessi con tutte le altre nazioni nascevano questa nuova generazione di ebrei ok come abbiamo letto prima e vedete è della nostra tradizione tenere la barba e non tagliarla e vedete quegli imperi prima erano tutti edomiti infatti gli edomiti avevano la tradizione questa tradizione qui di farsi la barba e queste cose qui e vedete da Hadrian qui è andato in potere i figli di Israele infatti quello che abbiamo appena letto prima che che è domiziano ok perdonatemi diocleziano ok diocleziano è conosciuto perché aveva lui tassava tanto i figli degli edomiti ok e qui loro hanno perso il potere questi sono saliti in potere questi sono i figli di Israele ok e questo vi porta a questo versetto che abbiamo letto qui e vedi una delle sue teste come se fosse stata ferita a morte e quando hanno perso il potere e la sua ferita mortale fu guarita e tutto il mondo si meravigliò della bestia qua è quando sono ritornato in potere così chiamato tempo di rinascimento rinascimento di cosa cosa è rinascimento vuol dire rinascere devi essere morto per essere rinato ok tempo di rinascimento è questo quando la ferita fu guarita e appena sono entrato in potere cosa hanno cominciato a fare a cambiare l'immagine di tutta questa gente qui infatti le statue che vedete le vedrete senza naso senza bla bla c'è sempre qualcosa di modificato per nascondere il fatto che non sono della stirpe ebrea ok e hanno cambiato anche fin tanto l'immagine del nostro sabbatore Yahawashai che è della stirpe di Giuda che era un negro di razza e hanno cambiato e hanno fatto diventare uno un rosso come i figli di Esau ok è quello che è successo qui ora spero che avete capito fin qui andiamo avanti e adorarono il dragone che dava potere alla bestia e adorarono la bestia dicendo chi è simile alla bestia chi è in grado di fare guerra con lui ok infatti hanno cominciato ad adorare questa bestia qui ok la bestia è l'antica Roma e questo vuol dire che adoravano tutti i dei dei antichi romani fino anche ad oggi i nostri calendari e robe varie giorni della settimana sono tutti chiamati dietro questi dei dei antichi romani la bestia è il sistema il dragone è l'antica romano ok e gli fu data una bocca che pronunciava grande cose bestemmie e il potere è stato dato a lui di continuare a 42 mesi questo sta parlando di America ok e apri la bocca per bestemmiare contro i poteri per bestemmiare il suo nome il suo tebanacolo di quelli che dimorano nei cieli è quello che ha fatto nel tempo di rinascimento è arrivato hanno cambiato il nome da Yahweh hanno nascosto questo nome e vi hanno dato un nome di bestemmia di blasfemo che è Gesù Gesù vuol dire niente ok infatti in inglese se prendete la parola Jesus ok che è Gesù e fate il calcolo ok perché ogni lettera ha un valore numerico ok e se prendete la lettera G e fate il suo numerico e li moltiplicate ogni lettera per 9 che alla fine 666 vuol dire 18 e se prendete 1 più 8 vi da 9 e 9 alla fine in antico ebraico è un 6 girato all'opposto e moltiplicate ogni valore di ogni lettera per 9 ok e aggiungete la somma vi da 666 questo non può essere il nome del padre infatti è quello che hanno fatto e apre la bocca e bestemmia il suo nome il suo tebanacolo e quelli che rimorano nei cieli cosa come hanno hanno preso i figli di Israele li hanno schiavizzati in America ok non solo in America in Romano tutte quelle cose che vedete costruite grosse erano costruite sulla schiena dei figli di Israele ok i figli di Israele e il tebanacolo del padre hanno preso anche il tebanacolo fisico Gerusalemme hanno saccheggiato tutto rubato tutto hanno bruciato e hanno disperso i figli di Israele è quello che sta succedendo qui ok e fu dato di fare la guerra con i santi e di vincerli e gli fu dato potere su tutte le tribù lingue e nazioni quello che non è quello che è successo sì è quello che è successo ok hanno fatto guerra con tutti hanno hanno fatto la seconda guerra hanno fatto diverse cose americane ok che gli americani vengono fuori ok dall'Inghilterra come vi avevo letto prima il dente della bestia lì è Inghilterra e i figli di Esaul sono sparsi gli stessi romani sono gli stessi là che vedete in America sono la stessa gente ok e tutti gli abitanti della terra lo adoreranno in cui nome non sono scritti nel libro della vita dell'agnello immolato fino dalla fondazione del mondo infatti tutti gli abitanti si sono soppressi a questa cosa qui hanno cominciato a seguire lui e questa gente che sono quelli che il loro nome non è scritto nel libro dell'agnello che è Yahawashai ok se qualcuno ha orecchi ascolti qua è molto importante infatti perché Giovanni dice se qualcuno ha orecchi ascolti e dice chi conduce in cattività andrà in cattività chi uccide con la spada deve essere ucciso con la spada ecco la pazienza e la fede dei santi chi sono i santi come avete visto in altri video d'accordo al libro di Salmi 55 i santi sono i figli di Israele ok perciò chi è cosa hanno fatto hanno hanno condotto in cattività sì i così chiamati i caucasi hanno condotto in cattività ok e loro andranno in cattività hanno ucciso con la spada sì hanno ucciso con la spada e la spada moderna rappresenta le pistole e i fucile queste cose qui e saranno uccisi anche loro con la spada ecco la pazienza e fede dei santi e sì questa è la nostra pazienza sappiamo che coloro che ci hanno portato in schiavitù anche loro andranno in schiavitù ok e chi è che verrà a far partire questa cosa qui e il figlio del padre Yahweh lui verrà e prenderà questo regno dalla loro mano e lo concederà di nuovo a coloro che sono degni di averlo ok e andiamo avanti e vedi un'altra bestia che saliva dalla terra e aveva due corna come un agnello e parlava come un drago ed egli esercitava davanti a sé tutto il potere della prima bestia e fa sì che la terra e coloro che vi abitano adorano la prima bestia la cui ferita mortale fu guarita questo sta parlando di America ok e cosa hanno fatto queste due corna che sta parlando sta parlando dei repubblicani e democratici ok infatti se andate a vedere la storia degli antichi romani gli antichi romani avevano i senati diviso in due ok e si chiamavano i patriciani e i plabiani ok ed è stato cambiato a giorno d'oggi ai repubblicani e democratici ok e che cosa stanno facendo stanno facendo sempre le stesse cose degli antichi romani non è cambiato niente è solo coloro che non vanno a cercare questa verità che non possono capire queste cose qui infatti le scritture ci dicono di studiare affinché possiamo essere approvati davanti al padre Yahweh e le scritture dicono lo stesso nel libro di Osea capitolo 8 e 5 che il popolo suo è è è sì sto parafrasando che il mio popolo muore per 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 la mancanza di di saggezza per l'ignoranza ok e che cosa è vedi un'altra bestia che anzi sì ed egli esercitava davanti a sé tutto il potere della prima bestia perché stanno esercitando tutto il potere dell'antico romano ok non è cambiato nulla stanno esercitando tutto quello che facevano gli antichi romani infatti come vi avevo fatto vedere prima qui se vedete vedete tutti tutti i monumenti ok a Roma in Gran Bretagna in America sono tutte l'architettura degli antichi figli dei romani che questi figli sono i figli di Esau questa era la prima abitazione loro ok e andiamo a vedere altre se troviamo altro ne ho già fatto vedete vedete qui anche quelle cose coloseo quelle cose là che vedete lo stadio di calcio non è altro che l'antico coloseo ok sono cose che facevano gli antichi gli antichi romani ok e vedete tutte le costruzioni a donno d'oggi sono le stesse cose ok in che altro modo fanno questa cosa qui vi faccio sapere la scuola che mandano i bambini ok queste scuole non fanno altro che insegnano di entrare in sistema loro ok indottrinano non insegnano neanche come essere indottrinamento ok ti dicono di fare una carriera in questo mondo in tutte queste cose qui e come abbiamo visto prima come abbiamo visto prima qui che per esempio un esempio di Alessandro Tiberio che era un ebreo che era un ebreo che si è venduto ok ai romani per uccidere il suo popolo abbiamo così tanti di quei figli della casa di Yasharala anche oggi che ci vendono sono i così chiamati celebrità li vedete tanti nel mondo dello sport nel mondo della musica anche tanti sono nella politica ok e fanno queste cose per accontentare i nostri nemici infatti in America se vedete Biden che è entrato appena da poco lui ha messo come il suo capo di securità un negro ha messo tanti di questi negri qui sono questo è lo stesso spirito di questa gente che sta tornando ok e questi si sono venduti al servizio e verranno puniti a presto quando torna il figlio del padre Yahawashai ok e come come vi avevo detto queste due corne rappresentano come facevano gli antichi romani i patriziani e i plabiani che vuol dire i democraciti e i repubblicani è la stessa cosa che hanno portato la democrazia non è altro che l'antica romana ok e vedete vedete di nuovo e vede un'altra bestia che saliva dalla terra e aveva due corna come un agnello e parlava come un drago infatti loro sembrano gentili quando parlano ma quando sentite queste 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 leggi che portano sono leggi draconiane ok leggi draconiane che dicono che adesso stanno censurando tutto non puoi parlare contro la verità se tu dici la verità ti censurano e ti mettono dalla parte di di fake news o tutte quelle cose là ok questi sono il modo come parla come un drago ok e dice le cose contro i padri dice che i uomini possono sposarsi con i uomini e tutte queste cose qui parla come il drago ed è lì esercita davanti a sé tutto il potere della prima bestia qual è la prima bestia l'antica Roma e fa sì che la terra e coloro che vi abitano adorino la prima bestia la cui ferita mortale fu guarita qual è qual è la bestia che la sua ferita mortale aveva una ferita mortale era l'antica Roma e ha avuto una ferita mortale quando i figli di Israele sono saliti in potere i così chiamati tempi mediovali ok e loro sono ritornati in potere nel tempo di rinascimento ok e sì fanno adorare portano la democrazia come fanno ad adorare tutti della terra quando portano la democrazia se tu non accetti la democrazia cosa fanno ci ammazzano ci fanno scendere bomba non pensate che sono andati in Iran in Afghanistan in tutto quello è il motivo perché sono andati lì è per cambiare il loro modo è per prendere le loro risorse e per portare questa falsa dottrina di 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 democrazia quelli là non accettano e cosa fanno fanno venire giù bombe ok cosa hanno fatto anche in Libia queste sono le storie che poi in tv li fanno vedere fanno diventare le vittime li fanno diventare i cattivi e quelli che sono i cattivi li fanno diventare le vittime questa è la stagione reale della tv ok e dice e fa grandi prodigi così che fa scendere fuoco da cielo sulla terra agli occhi dei uomini quali sono questi fuochi qui si parla dell'Hiroshima Nagasaki di tutte le bombe che hanno fatto anche nel paese dei vietnamini ok questi sono è questo che fanno quando fanno tutto questo la gente rimane zitta la gente ok è come questi e inganna quelli che dimorano sulla terra per mezzo di quei miracoli che aveva il potere di fare agli occhi della bestia dicendo a quelli che abitano sulla terra che avrebbero dovuto fare un'immagine alla bestia che aveva la ferita di una spada e che era sopravvissuto ok qual è questo inganno inganno a quelli che dimorano sulla terra per mezzo di quei miracoli quali sono questi miracoli la tecnologia ok l'intelligenza artificiale ok è questo che ingannano tutti che aveva il potere di fare agli occhi della bestia che del sistema dicendo a quelli che abitano sulla terra che avrebbero dovuto fare un'immagine della bestia ok che aveva la ferita di una spada ok non è altro che non è altro che tutte queste cose che fanno per per sviare la gente tutta la tecnologia queste cose qui prendono i spaziali vanno in Marte tutto bugie queste cose qui l'intelligenza artificiale era tutto questo che hanno fatto per ingannare il mondo ok andiamo avanti e aveva il potere di dare la vita all'immagine della bestia affinché immagine della bestia parlasse entrambe e fecesse sì che tutti quelli che non adoravano l'immagine della bestia fossero uccisi ok l'immagine della bestia sono le sue filosofie ok la sua democrazia ed è quello che dicevo prima se tu non accetti la sua democrazia e tutte queste cose qui lui ti uccide ti butta bombe giù ti distrugge il paese ed è quello che sta dicendo qui e fa sì che tutti i piccoli e grandi ricchi e poveri liberi schiavi schiavi ricevano un marchio nella mano destra o sulla fronte questo sapete cosa è è così chiamato è un microchip che sta arrivando a breve ok infatti anche tra questo che abbiamo letto e aveva il potere di dare la vita all'immagine della bestia affinché l'immagine della bestia parlasse entrambi e fece sì che tutti quelli che non adoravano l'immagine della bestia fossero uccisi ok ora un'altra forma di questo è il veleno il macino ok che stanno spingendo di brutto che tutti devono prendere ok e tra poco se non prendiamo queste cose qui non faremo non faremo mica parte di questa società non potremo lavorare a fare altre cose e questo qui che sta dicendo ok sta parlando affinché nessuno potesse comprare o vendere tranne chi aveva il marchio o il nome della bestia il numero del suo nome ok ed il microchip che arriva dopo questo e ho fatto tante moltiplici lezioni su questa cosa qui adesso non vado dentro a spiegare per coloro che non capiscono devono andare a vedere il resto dei video che ho fatto riguardo che il marchio della bestia e tutto il resto ok ecco la saggezza che colui che ha intelligenza conti il numero della bestia poiché il numero di un uomo il suo numero è 666 e come sempre ho fatto già una lezione su questo e questa questa lezione è abbastanza lunga non non potevo fare altrettanto ho anche ridotto tante cose che potevo far vedere e dire per non fare per non fare diventare troppo lungo questa lezione e detto questo spero che siete stati edificati spero che il padre sia con voi e parlo ai figli di israele all'untezzo degli eletti a coloro che con sincerità cercano questa verità voglio dare tutti i miei onori tutti e tutte le mie adorazioni al padre per avermi insegnato questa verità e alla prossima shalom a